Sono Marco Casadei, presidente del cantiere del Pardo, in un'occasione speciale come questa, su una barca speciale, la numero uno del cantiere, la più piccolina ma anche la più nuova, il nuovo 34, stiamo cercando di uscire dall'ormeggio per andare a regattare e provare a vincere una regata magnifica come quella di oggi. Oggi è importante essere qui perché diventerà un evento negli anni, una nostra regata. Ci sono 60 barche, comincia a essere qualcosa di serio. Vincere la Grand Soleil Cup vuole dire essere di riferimento nel mercato italiano. Le barche a vela sono sinonimo di ecologia, adesso si parla tanto di ecologia, si parla tanto di motore elettrico, di ibrido, quindi anche Grand Soleil sta guardando con un occhio interessante a questo sviluppo.